ciao a tutti ragazzi sono gabriel in questo video serio e breve sono qua per parlarvi che io andrò in ferie se andrò domani sono in festa se mi fa casino e questo mi farà portarmi in avvocato delle persone le vacanze e per questo ragazzi proprio per avvisarvi in questo breve video che se riesco a fare un video fuori ma sono lì e poi mi andrà tutto male come le solite volte quindi ragazzi un video per aggiornarvi e ciao a tutti